Si sono messi in evidenza alcuni nostri giovani, da poco diventati senior, proprio in Romania dove c'è stato qualche giorno fa un campionato internazionale e c'è un atleta dell'85, un 19enne della società Prochiavari, parliamo di Riccardo Costa, che è già più che una giovane promessa, perché con un parterra di atleti di tutto rispetto questo 19enne è riuscito ad arrivare nonno per quanto riguarda il concorso all'around, parliamo della sommatoria di tutti gli attrezzi e in particolare si è messo in mostra sulle parallele, che è la sua specialità, dove è arrivato quarto, da aggiungere che ha completato, ha raggiunto la finale di specialità anche alla sbarra, con un quinto. Qui a Ploiesti, in Romania, si è messo in evidenza anche un atleta della società cooperativa Parma, Maria Rosso, lei è arrivata quarta nel concorso generale, centrando ben tre finali, dove è arrivata al volteggio, alle parallele asimmetriche e alla trave, risultati insomma molto lusinghiere, che soprattutto per quanto riguarda il campo femminile direi, perché insomma per quanto riguarda la squadra maschile sicuramente bisogna pensare al futuro e la nostra ottima, peraltro.